L'acqua è fondamentale per il nostro benessere, per evitare patologie anche gravi. Ma è vero che non tutta l'acqua è uguale? Il dottor Stefano Chiaramonte, nefrologo, ci svela i segreti di questo prezioso elemento. L'acqua è uno dei componenti fondamentali del nostro corpo. Il nostro corpo contiene almeno il 60% di acqua ed è variamente distribuita, perché di quest'acqua il 60% è all'interno delle nostre cellule. Si chiama acqua intracellulare, mentre il rimanente 40% si trova all'espazio extracellulare, quindi al di fuori delle cellule. E di questa acqua circa un quinto è quella che circola sotto forma di sangue. Questa acqua non è sequestrata nei vari compartimenti perché c'è un continuo riequilibrio. Tant'è vero che vi sono delle forze che trattengono l'acqua in ciascuno di questi comparti. Per specificare, i sali di potassio trattengono l'acqua all'interno delle cellule, mentre i sali di sodio governano la fuoriuscita di acqua dall'interno all'esterno delle cellule, a costituire quello importante liquido extracellulare. Mentre invece l'acqua viene trattenuta all'interno del torrente circolatorio dalle proteine che circolano nel sangue. Quindi la variabile di queste tre componenti influenza lo spostamento di una quota di acqua da un settore all'altro. E questo è molto importante perché l'equilibrio del corpo si basa proprio su una equa distribuzione dei liquidi, che significa distribuzione delle masse. La distribuzione poi dell'acqua nei differenti compartimenti del corpo può essere regolata da fattori ormonali, farmaci, attività fisica, la dinamica cardiaca, il funzionamento renale. E quindi l'acqua diventa veramente un elemento che in qualche modo influenza e viene influenzato da tutte le componenti del nostro corpo. Diciamo che i due organi che fondamentalmente regolano il bilancio e la distribuzione dell'acqua sono il cuore e i reni. Il cuore perché con la sua attività di pompa spinge il sangue e di conseguenza si trascina dietro una quota importante di acqua in tutte le parti del corpo e la dinamica cardiaca richiede un riempimento vascolare adeguato e richiede un adeguato riempimento anche di tutto lo spazio extracellulare. Il reno invece è quello che poi tira le somme e che gestisce nella pratica il bilancio dei liquidi, perché la filtrazione renale consente di gestire il bilancio dei liquidi e quindi regola proprio come un contabile il bilancio complessivo dell'acqua, al punto che il rene filtra ogni giorno quasi 180 litri di sangue, genera 180 litri di quella che si chiama preurina. Poi di questi 180 litri il 98-99% viene riassorbito all'interno del rene stesso per produrre quella quantità di un litro, un litro e mezzo, due di urina che ogni giorno viene eliminata. Allora voi capite che il rene ha una funzione fondamentale nel determinare il bilancio dell'acqua del corpo e anche qui viene influenzato da numerosi elementi, sono fattori ormonali, sono farmaci, lo stesso cuore con la sua dinamica influenza il funzionamento del rene e quindi è un tutt'uno che coinvolge vari organi. Certo allora non dobbiamo dimenticare che l'acqua è un elemento fondamentale e costituisce proprio il substrato di tante reazioni chimiche all'interno del nostro corpo. Poi dobbiamo considerare che il non c'è una quantità fissa di acqua che deve essere introdotta e così non c'è una quantità fissa di acqua che deve essere eliminata come urina perché il volume viene determinato fisiologicamente dalle caratteristiche del soggetto, dalla sua condizione clinica, dalle sue necessità. Certamente in questo periodo i fattori in campo cambiano radicalmente perché attraverso l'evaporazione di acqua con il sudore noi esercitiamo una forte capacità di termoregolazione e quindi la perdita di acqua con la sudorazione in questo momento è una delle nostre principali salvaguardie per l'effetto del caldo. Anche qui il discorso è variabile in relazione alla persona e soprattutto in relazione all'ambiente. Chi lavora all'aperto con le roventi temperature di questi giorni, con il sole, magari con il vento in certe zone, ha una perdita di acqua decisamente maggiore di chi vive in un ambiente chiuso, magari refrigerato. Poi ci sono anche da considerare delle situazioni differenti per differenti persone. Immaginiamo che la proporzione di acqua di un bambino piccolo è decisamente differente dalla proporzione corporea di una donna gravida e dalla proporzione corporea di un anziano. Allora la necessità di valutare il bilancio dei liquidi e di reintegrare le perdite oppure di assicurare una adeguata idratazione varia notevolmente nelle situazioni importanti, quindi nella gravidanza varia nell'anziano e varia nel bambino. Soprattutto anziano e bambino hanno necessità di un apporto di liquidi un po' più abbondante di quello che è la persona standard. Diciamo che il Padre Eterno ci ha dotati dello stimolo della sete che in qualche modo è fisiologico e attiva una serie di meccanismi di risparmio dell'acqua a livello del rene e di richiesta di acqua attraverso l'assunzione di liquidi per rifornire il nostro corpo. C'è però da dire che per esempio l'anziano che è un soggetto fragile dal punto di vista del bilancio di liquidi percepisce in minor misura lo stimolo della sete rispetto a un giovane o a un adulto. Allora in queste condizioni, senza esagerare, ma dobbiamo avere l'attenzione di raccomandare un apporto liquido un po' più abbondante avendo fiducia che poi comunque il rene riesce a compensare quel eccesso di liquidi che può essere introdotto dovuto a un eccesso di attenzioni. Il nostro rene è in grado di smaltire delle grossissime quantità di liquidi per cui possiamo certamente in questo periodo consigliare a bambini e adulti di avere un abbondante apporto di liquidi. Diciamo che non è giusto dal punto di vista così biologico, anche se tutto sommato non rappresenta un handicap particolare, non è un fattore di rischio. Diventa un eccesso laddove viene guidato da tutta una serie di falsi messaggi pubblicitari o laddove viene guidato da una serie di affermazioni, di fake news assolutamente arbitrarie. Poi consideriamo anche una cosa che parlando di idratazione non dobbiamo parlare solamente di acqua, noi introduciamo liquidi in tanti modi, con la colazione, con i cibi, con la verdura, con la frutta, quindi è difficile che uno vada in un deficit assolutamente marcato di acqua, a meno che non si trovi in situazioni particolarmente critiche. A questo riguardo quindi dobbiamo distinguere quello che è il piacere del bere, perché bere è un piacere, d'estate la bevanda fresca, d'inverno la bevanda calda, bevande piacevoli, avendo cura peraltro di non esagerare con le bevande zuccherate, perché bere sì, ma consideriamo che il tè zuccherato, l'aranciata, la limonata zuccherata poi rappresentano una fonte di apporto di calorie importanti, scarsamente controllabili e uno poi si ritrova a fare i conti con la bilancia quando poi è troppo tardi, oppure si ritrova a fare i conti con un eccesso di assunzione di zuccheri e per certe persone non è chiaramente la condizione ottimale. E poi dobbiamo fare i conti anche con quello che è un messaggio pubblicitario che ci spinge a considerare l'acqua come la panneccia di tutti i mali. L'acqua va bene per osteoporosi, va bene per l'invecchiamento, va bene per tante cose. Ora, è una forzatura. Immaginate la persona che ha inventato lo spot, l'acqua che elimina l'acqua, meriterebbe il premio Nobel per quello che riguarda la commercializzazione, per quello che riguarda i messaggi pubblicitari. Però se consideriamo questo tipo di affermazione, noi dobbiamo ascoltarla e prenderla veramente con le pinze perché è veramente un paradosso. Questo è uno dei tanti esempi di come veniamo spesso influenzati a determinati consumi e in particolare del consumo dell'acqua da una serie di politiche pubblicitarie che non sono assolutamente aderenti a quello che è un messaggio biologico, un messaggio clinico, un messaggio scientifico vero e proprio. Bevete, certo, bevete, ma bevete sapendo di avere il piacere di bere, non considerando l'acqua, una medicina o un tocca sana per altri mali. Questa è una affermazione che può essere vista in due modi. Più bevo e più sudo e più sudo, più ho necessità di bere. Dipende da che parte vogliamo vedere il problema. Considerando che l'evaporazione dell'acqua attraverso il sudore è una forma di regolazione della temperatura corporea, un apporto abbondante di liquidi ci consente di sfruttare meglio questo tipo di regolazione. Poi ognuno fa i conti con le proprie preferenze e ognuno fa i conti con le sue abitudini e l'ambiente dove vive.